Il termine, seppur abusato, è quanto mai calzante. Stiamo parlando della Remuntada, l'impresa che la Beretti della Fidelisandria vuole provare a compiere domani pomeriggio nella gara di ritorno dei quarti di finale per la Pull Scudetto sul campo del Catania. Ci sono due gol da rimontare, quelli subiti sabato scorso al Degli Olivi dalla formazione allenata da Valeriano Loseto, il tecnico che non usa frasi di circostanza per spiegare che lui ci crede alla rimonta. Oltre alla speranza, c'è la fiducia che la squadra si giocherà tutte le carte possibili per centrare la qualificazione alle finali Scudetto in programma a Prato. Ed è il tecnico, in questa lunga vigilia, a svelare una sorta di piano d'azione, giocare la prima mezz'ora a ritmi vertiginosi per trovare il gol che riaprirebbe il discorso qualificazione e minerebbe le certezze del Catania. Avversario con il quale le distanze non sono così nette come direbbe il risultato della partita d'andata. Avesse realizzato il rigore bottalico, ragiona il tecnico Loseto, avremmo parlato di un'altra partita. Quella però è andata in archivio con più di un dazio da pagare. Infatti non saranno disponibili per la sfida di domani pomeriggio il portiere Lullo, i difensori Spinelli e Caponero, i centrocampisti Piarulli e proprio Bottalico. Ci sarebbero tutte le condizioni per appellarsi all'emergenza di formazione, ma Loseto non accampa scusanti. A Catania, la Berretti della Fidelis non ci va in gita premio. Così la grinta del tecnico, sempre più in pol per la panchina della prima squadra, diventa una sorta di dodicesimo uomo da schierare domani pomeriggio. Con quel sogno delle finali scudetto, tutt'altro che riposto nel cassetto.